Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento presentato dal manager dell'affitto Giuseppe di Napoli. Ci troviamo all'Imbiate in zona Ceresolo, in un appartamento bilocale dotato di taverna e box auto incluso. Ingresso indipendente attraverso un balcone privato al piano rialzato, con vista sull'esterno dell'edificio. Ingresso direttamente sulla cucina, ampia e completa di arredamento. Dalla cucina abbiamo accesso al disimpegno che conduce al bagno, completo di vasca e sanitari. Sempre dalla cucina abbiamo un accesso diretto al soggiorno, molto accogliente, con parquet e porta finestra che conduce al balcone, molto spazioso, che si espone sul lato box. Dalla zona giorno passiamo ora alla zona notte, attraverso una scala a chiocciola che conduce al piano seminterrato. Il seminterrato è attualmente allestito a camera da letto, con scrivania, letto matrimoniale e ampia armadiatura. Da questa zona abbiamo accesso direttamente al bagno, che funge anche da zona lavanderia, con lavandino per lavaggio a mano e lavatrice. Oltre all'accesso interno a questa stanza abbiamo un accesso dall'esterno attraverso porta blindata. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.limbiate.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza